La pianta che abbiamo appena visto è una pianta di bosso ed è la materia prima con cui si producono i pifferi che abbiamo ascoltato nel giorno dell'Epifania. Ci troviamo infatti nel laboratorio dove vengono scolpite le magiche note che compongono la colonna sonora del nostro storico carnevale. Siamo qui con Massimo Enrico e Simone Boglia e insieme a loro sveleremo i trucchi per produrre un piffero. Massimo se non sbaglio adesso usciremo fuori e taglieremo la pianta che abbiamo appena visto per produrre un piffero canavesano giusto? Non esattamente nel senso che quella è una pianta di 300 anni e va assolutamente salvaguardata però vi faccio vedere un esempio qua del legno del bosso che è questo. Questo frammento che abbiamo qui di tronco ha circa 150 anni quindi immaginatevi quanto ci impiega per diventare grande così. Qua abbiamo diciamo le prime fasi di lavorazione dello strumento in cui si ricavano praticamente da questo tronco dopo la stagionatura che adesso non vi spiego perché è una cosa abbastanza complicata. Si ricavano questi quadrotti di legno e dopodiché devono essere ulteriormente stagionati. Poi le prime fasi di lavorazione, il pezzo dopo anni, il pezzo viene arrotondato, viene sgrossato nell'arrotondamento e successivamente è ancora lasciato riposare per eventuali tensioni interne del legno. Dopodiché viene forato, ecco in questo caso ho un esempio di legno di evano che è un altro dei materiali che si adoperano per i pifferi, viene forato tramite delle punte, vi faccio vedere un esempio qua, questa è una punta cannone che serve appunto per le forature profonde, questa è circa 40 centimetri e ci permette di effettuare un foro esattamente preciso con un diametro che in questo caso è di 10 millimetri. Vedete che non so se si riesce a inquadrare però il foro è perfettamente lucido e dritto. Successivamente a questa parte della foratura vengono inserite le ghiere pizzicando praticamente il legno tramite dei coni in maniera molto leggera senza andare a rovinare diciamo la parte, a creare delle crepe in queste zone qui e successivamente vengono inserite le ghiere che sono questi anellini di ottone che vedete, ce ne sono due tipi, uno per la testa e l'altro per il fondo. Inserite queste ghiere praticamente l'oggetto viene ritornito con delle sgorbie che sono tipo questa, ecco vedete praticamente viene messo sul tornio che è una macchina che fa girare molto velocemente e si riprende fino ad arrivare alla lavorazione finale, adesso vedete qua, questo è già forato diciamo però immaginate prima della foratura di vedere, sembra quasi una bacchetta del tamburo, ma non lo è perché dentro c'è questo foro. Fino ad arrivare qui ecco per esempio questi sono, questo è un bosso che è stato trattato con un sistema di colorazione tramite degli acidi che permette questa tinta miele che è molto bella e poi vengono successivamente finiti ad olio o con delle cere e la superficie rimane molto molto liscia e bella al tatto. Dopo la tornitura c'è la fase della foratura che viene fatta, ecco vedete per esempio qua c'è una dima che è quella vecchia che usavamo per i pifferi, si inserisce il piffero così, vedete che i fori sono perfettamente combacianti. Ogni uno di questi fori deve essere fatto ovviamente con un trapano a colonna che permette una foratura precisissima. Ecco finita questa fase qua c'è tutta la fase della rifinitura che praticamente consiste nel riprendere i fori in questi punti qui e andare a riprendere anche internamente tutte le bave che si possono venire a creare durante la foratura. Simone ci spieghi le fasi della intonazione? Sì certo, allora l'intonazione praticamente consiste nell'agire su questi fori di diteggiatura cercando di arrivare alla nota perfetta modificando leggermente il loro diametro e alcune volte si può anche agire sul foro di insufflazione. Diciamo che per quanto riguarda espressamente il discorso della banda dei pifferi di Ivrea io mi preoccupo sempre anche molto di capire chi andrà a suonare lo strumento e in base alla persona che può essere più o meno giovane e quindi avere delle disponibilità di fiato differenti vado a cercare di creare lo strumento appositamente per il personaggio che lo adopererà. Tutto ciò che abbiamo visto nasce dall'incontro di due passioni in comune e di due competenze diverse suonatore e costruttore. Massimo questa formula funziona? Funziona sì perché diciamo abbiamo unito le forze e anche le esperienze differenti che avevamo avuto in campo diuteristico e quindi a che cosa ha portato questo incontro? Ha portato intanto alla focalizzazione di un progetto preciso nella costruzione dei pifferi che tra l'altro è stato preso da un piffero storico cioè è stata fatta una ricerca storica siamo andati a vedere quali strumenti potevamo ancora vedere quotare di epoca parliamo di 800 e quindi siamo partiti da un progetto del genere per uniformare la foratura dei pifferi e la foratura sia interna che quella esterna. Quindi siamo arrivati a produrre un oggetto che è sempre identico e che permette ai gruppi folcloristici dei pifferi sia quelli di Ivrea sia quelli dei paesi vicini permette di avere un'uniformità di suono. Oltretutto questi pifferi hanno anche una particolare bellezza però Simone? Sì, certamente abbiamo cercato di curare anche molto l'aspetto esteriore dello strumento pur non tralasciando comunque la qualità del suono. Quello che volevo sottolineare era appunto qual è stata l'esigenza tanti anni fa di cominciare questa collaborazione che era quella in cui praticamente notavamo che non c'erano più degli strumenti di una certa elevatura. Gli strumenti non erano intonati, erano spesso costruiti da persone che avevano una competenza relativamente limitata, non erano dei musicisti e quindi spesso anche nella banda ci trovavamo con delle differenze notevoli oltre che a livello estetico anche a livello di suono. Per cui direi molto importante chi ci ha preceduto, bisogna comunque mai dimenticare il lavoro che è stato fatto per portare avanti la tradizione di questo strumento, però adesso possiamo veramente affermare di avere un prodotto valido e di qualità.